ragazzi ora Alessandro ci spiega va bene questa è quella rapida vero Alessandro? la riconosciamo perché la pennetta è di color arancione togli il tappo nella sua relativa aghetto use e getta ora tolto il tappo della pennetta che era questo proprio come una penna vedete il tappo Alessandro va a avvitare quindi Alessandro avviti finché non si ferma poi potete togliere a questo punto c'è un'ulteriore sicurezza togli e vediamo un attimino scusa che te lo faccio vedere vedete l'acqua è microscopico voi dovete avere paura di questo aghetto Alessandro spiega gli ai bambini che gli capita questa cosa qua per le più volte perché? non si sente niente vero? è troppo piccolo per fare male allora a questo punto ragazzi qua mettiamo a uno vedete che sarebbe una dosa inzio siamo sicuri che esce la goccia premo fino a che esce una goccia è schizzata la goccia uscita va bene a questo punto qua rimettiamo la nostra dosa siccome noi siamo in luna di miele la nostra dosa è semplicemente uno abbiamo visto bene proprio uno ora Alessandro dov'è che decidi tu di farla? allora i punti dove si possono fare sono nel pancino che sembra una cosa terribile nel pancino ma nel pancino non si sente niente qua 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 sulle spalle allora ragazzi allora qui ne dobbiamo fare poco perché io ci faccio la lantus a lui gli piace fare lantus qua e quindi se le tiene di riserva ma qua si sente mai qua si sente poco invece nel culetto si sente di più la lantus dice ognuno poi dopo chiaramente è differente allora tu scegli il braccio vai solleva solleva la maglietta bene allora ragazzi ecco la cosa allora aspettate ragazzi che non lo so fare questa qua è la posizione ok si prende così sembra pericoloso con coltello invece no dove lo facciamo il suo braccio che ha favore di camera vedete qui c'è anche il sensore dove noi riusciamo a vedere la glicemia di Alessandro senza fargli niente semplicemente avviciniamo il cellulare ora io l'appoggio qua vedete so a uno è importante che la qualità sia non è disinfettato? no non l'abbiamo disinfettato aspetta Alessandro aspetta vedete queste sono le servettine noi uso il getto queste ci troviamo molto comode le compriamo su Amazon costano tipo 1 euro e 30 tutto il pacchetto ma ci fai parecchio col pacchetto noi con queste siamo comodi perché allora papà metti così e tu disinfetta io disinfetto però non lo fatti così allora io metto così allora allora noi abbiamo un bel trucchetto allora il nostro trucchetto è che noi neanche spingiamo lasciamo solo che il peso no così tu tieni così e tu mi aiuti ah vabbè allora facciamo altro ci abbiamo due trucchetti uno che Alessandro mi guida la mano ok dimmi tu quando mi devo avvicinare guardate io arrivo qua guarda avvicinati guarda mi appoggio e lascio solo che il peso entri neanche si sente poi premo uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci aspetta Alessandro guarda via fatto male poco poco vabbè ragazzi però è quasi niente ragazzi però adesso se noi invece facciamo la lasciamo cadere col peso e basta eccezionale non si sente niente poi togliamo poi ragazzi facciamo un altro video sì dove Alessandro se lo fa da solo completamente è da solo e poi un altro che lo fa al nonno che no non lo fa poi un altro che tu fa vedere l'impugnatura e io ti vedo piano piano non lo lasci cadere non la lasci cadere che mi guida Alessandro perché Alessandro lo sa lui come gestire il suo corpo perché nessuno meglio di Alessandro sa dove gli fa male dove gli fa bene è l'unico tutti gli esseri umani tutti gli esseri umani sono il miglior medico di se stesso però bisogna bisogna volere imparare quindi a quelli soprattutto che tu sai da quanto da 20 giorni che l'ha scoperto però già non c'è più paura io ho fatto solo due volte lui già di giorni fa gli è venuta per la prima volta questa cosa e già l'ha fatta due volte la puntura ragazzi io ho fatto due volte la puntura da solo perché non ci mettete pollici in su certo cioè con papà e la mamma la prima volta con papà la seconda volta con la mamma oggi l'ho fatta con la mamma mi raccomando la dose non ve la mettete da sola la dose la deve fare papà e mamma perché se sbagliate la dose vi sentite male però la capacità di fare la puntura è talmente facile e poi vi passa la paura in generale perché capite che è una cosa che era solo psicologica all'inizio quindi dai un incoraggiamento a questi bambini che magari hanno chi hanno paura delle lantus i primi no a giorni forza 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 e facciamo altri di video ciao e anche un pollice su a voi ciao un pollice su soprattutto per voi dai ragazzi ciao ciao